Siamo lavorando su più fronti, sia lavorando soprattutto al completamento dei tanti, troppi cantieri in essere che sono rimasti incompleti, quindi la nostra forza è concentrata su questo e stiamo inoltre lavorando per portare avanti dei progetti che mettano di nuova Meglia al centro del territorio amerino, che è un ruolo che secondo noi nel tempo si è andato perdendo. Grazie.